direttamente dalla cameretta magica oggi 3 di gennaio benvenuti ad un nuovo video in questo nuovo video faremo un video commemorativo che tra l'altro è il primo video commemorativo dell'anno comunque vi avviso nell'immediato che essendo un video commemorativo non voglio commenti del genere quando farei prossimi video, mi saluti al prossimo video eccetera perché si tratta pur sempre di un video commemorativo e si tratta di cose un po' delicate, capito? comunque proprio ieri 2 di gennaio è venuto a mancare un altro grande doppiatore forse uno degli ultimi superstiti del doppiaggio di una volta cioè dei vecchi doppiatori della CDC parliamo di Massimo Turci Massimo Turci è venuto a mancare ieri all'età di quasi 93 anni che avrebbe dovuto compiere 93 anni il 20 di giugno Massimo Turci comunque è stato voce di Alain Delon ha doppiato anche Elvis Presley ha doppiato Salmineo poi gli altri ha doppiato, aspetta ora vi faccio vedere ha doppiato pure vediamo un po' poi tra l'altro Massimo Turci vinse pure la targa vinse pure la targa Qualchiero De Angelis alla 12esima edizione doppiò Russ Tumbling Alain Delon come abbiamo detto prima Salmineo Anthony Peckins doppiò anche film importanti come Il Gigante e così via doppiò anche Terence Hill Gabriele Antonini doppiò anche Little Tony, il cantante doppiò anche Bobby Solo Albano Carrisi cioè quello che ha fatto Felicità in Nel Sole nonché anche il marito di Romina Power cioè Albano Carrisi Nick Adams Nino Castelnuovo doppiò Ben Cooper Peter Lee Lawrence James McArthur Roddy McDowell doppiò Jacques Peren poi doppiò anche vediamo un po' Jack Nicholson Fabian George Hamilton doppiò anche Thomas Millian Jim Houghton Paul McCartney dei Beatles doppiò anche poi doppiò anche Dean Stoachwell poi l'altro doppiò Jean Paul Belmondo poi doppiò vediamo un po' Eddie Fisher che fu uno dei tanti mariti di Liz Taylor Jack Lord Bob Newhart Mickey Roney doppiò Peter Strauss Patrick Wayne che a quest'ultimo era il figlio di John Wayne doppiò anche Maurizio Arena Ugo Amaldi Johnny Dorelli Giuliano Gemma Ennio Girolami Raph Mattioli doppiò poi fu anche voce di Bobby Solo come ho detto prima di Gabriele Tinti poi nell'animazione doppiò Ercolino nelle 13 fatiche di Ercolino il principe incenerentola nella Disney nel doppiaggio del 67 Paul McCartney nel riello Sabarin Valentino nel giro del mondo degli innamorati di Payent e che è molto altra ancora poi vi faccio vedere una sua immagine eccolo qui era comunque un bell'uomo con un volto molto sorridente che comunque non l'ho mai conosciuto ma secondo me era un tipo molto simpatico dalla faccia che poi Massimo Turci si ritirò dall'attività artistica nel 99 però fatto sta anche dopo rilasciò interviste anche in età avanzata verso gli 80 anni eccetera ci vederebbero qualche altra sua immagine qui è un'immagine del 2011 che era molto che comunque nonostante qui avesse 81 anni era comunque ancora un bell'uomo e comunque che altro c'è da dire beh comunque in ogni caso certo 92 anni non sono non sono pochi ne avrebbe dovuti fare 93 a giugno comunque anche se comunque ci mancherà molto comunque poi Massimo Turci aveva veramente un bellissimo timbro vocale una voce calda e giovanile e che altro c'è da dire comunque buon viaggio caro Maz e che dire spero che comunque anche lui venga seppellito nel cimitero monumentale del verano perché secondo me se la merita la sepoltura al verano che dire e niente ci vediamo alla prossima